Domenica 27 febbraio in Puglia sono stati registrati 2.566 nuovi casi di covid su 22.695 test, 9 le persone decedute. In provincia di Bari sono stati 664 i nuovi casi rilevati, in provincia di BAT 164, in provincia di Brindisi 200, in provincia di Foggia 346, in provincia di Lecce 835, in provincia di Taranto 327. A Lucera, secondo i dati diffusi lo scorso venerdì, si attesta a poco più di 400 il numero delle persone ancora contagiate dal virus in città. 79.666 sono le persone attualmente positive al covid in Puglia, 610 sono ricoverate in area non critica e 33 si trovano in terapia intensiva.